Quando una vettura entra in officina, la prima cosa che bisogna fare, anche solo però sempre di tagliando, bisogna comunque fare una diagnosi per avere un quadro esatto della situazione. Il SWATF, secondo noi, è la parte fondamentale della diagnosi. EZ-Tronic praticamente ti dà una panoramica completa della vettura. Ciao, io sono Pierluigi Bianco, io qui sono il titolare di questa azienda che si chiama Bianco Auto, Bosch Car Service dal 1990 e già la prendo in eredità già da mio padre. Una passione di famiglia, poi siamo sempre stati legati a Bosch per mille motivi e abbiamo sempre seguito questo leitmotiv di Bosch. L'ES-Tronic è un software che ti permette di interfacciarsi con tutte le centraline e sensori all'interno della macchina. Non facciamo solo la diagnosi, ma possiamo andare a verificare, ad esempio, tutti i passaggi che servono per fare un tagliando di manutenzione perfetto, come si fa in una concessionaria a casa madre. E la grande fortuna è che, in base all'errore, ti può dire dire direttamente il sensore dove è posizionato e quindi anche, eventualmente, il codice per sostituire tale componentistica. Quindi come risolvere il problema, proprio dall'A alla Z. Trovata molto interessante e, in ogni caso, efficiente. E' abbastanza intuitivo e molto, diciamo, proprio semplice capire come funziona tutto il sistema. Se diciamo che è impossibile lavorare senza, per noi questo è fondamentale. Devono avere la consapevolezza di dire, porto la macchina da bianco auto, Bosch Car Service, vado a ritirare la macchina in perfette condizioni.